Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Allora non perdiamo altro tempo e immergiamoci insieme nel nostro mondo cripto. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. Oggi parleremo del panorama fluttuante di Bitcoin, intrappolato tra livelli di supporto e resistenza, chiedendoti quale sarà la prossima mossa. Bene, oggi approfondiremo proprio questa domanda, esplorando le dinamiche dell'azione dei prezzi di Bitcoin, i suoi scenari rialzisti e ribassisti, e il ruolo della teoria delle onde di Elliot nel decifrare la sua traiettoria. Mentre ci imbarchiamo in questa analisi, è fondamentale riconoscere l'imminente volatilità, con la pubblicazione dei dati sull'indice dei prezzi al consumo che si profila all'orizzonte. Sebbene queste cifre possano sembrare insignificanti nel grande schema, spesso fungono da catalizzatori per le fluttuazioni a breve termine, innescando potenzialmente movimenti significativi sia nel mercato delle criptovalute che in quello azionario. Osservando il grafico giornaliero di Bitcoin notiamo un pattern familiare, una fase correttiva caratterizzata da un movimento laterale. Questa correzione, per quanto normal, induce a speculare sulla sua durata e sull'eventuale risoluzione. Potremmo essere testimoni di un canale di prezzo correttivo o forse di un cuneo discendente? In ogni caso, ciò che conta veramente sono le zone di supporto di Fibonacci, che delineano livelli cruciali tra 55,4K e 50,8K. Finché Bitcoin si mantiene al di sopra di 50,7K, il percorso verso 90.000 rimane plausibile, anche se con le sue sfide. Tuttavia, mentre prevediamo un ulteriore rialzo, è essenziale prepararci alle complessità dell'onda 4, un'onda di grado più ampio che segnala la fine di questo ciclo rialzista. Nonostante l'imminente azione discontinua dei prezzi, la nostra attenzione si sposta su intervalli di tempo più brevi, dove il livello di supporto chiave di 58.360 diventa un fattore determinante del sentimento del mercato a breve termine. Il monitoraggio di questo livello critico diventa fondamentale, poiché distingue tra uno scenario rialzista e uno ribassista a breve termine. Se Bitcoin dovesse superare quota 58.360, una discesa verso 54.55.000 diventerebbe sempre più probabile, segnalando un cambiamento nelle dinamiche di mercato. Tuttavia, finché non si verifica tale violazione, rimaniamo cautamente ottimisti, attenendoci al supporto del conteggio giallo tra 60.860 e 58.360. Sebbene il microconteggio possa fornire informazioni sui movimenti dei prezzi a breve termine, la nostra attenzione rimane ferma sui livelli generali di supporto e resistenza. Sia che interpretiamo la recente azione dei prezzi come parte di una struttura correttiva più ampia, o come un precursore di un ulteriore rialzo, l'importanza risiede nella nostra capacità di adattarci alle condizioni di mercato in evoluzione. Mentre affrontiamo queste fluttuazioni, è fondamentale rimanere vigili, riconoscendo l'importanza delle zone di supporto nel generare reazioni del mercato. Sebbene le microstrutture offrano scorci di roadmap ideali, sono le aree di Fibonacci più ampie che segnalano veramente i cambiamenti nel sentiment, guidando le nostre strategie di investimento in mezzo all'incertezza. Quindi, mentre anticipiamo la prossima mossa nel viaggio di Bitcoin, ricordati di prepararti alla volatilità e di rimanere informato. Non perderti il prossimo volo cripto. Grazie per essere stati con noi. Se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo cripto, e non perdervi neanche una criptoavventura, schiacciate quel pulsante seguimi e attivate la campanella. Pronti a partire? Allora ci vediamo nel prossimo video.